Salve a tutti e bentornati sul canale. In questo video andremo a vedere tre progetti feda te che sono molto interessanti però sono molto semplici e brevi da fare quindi ne ho accorpati tre in un unico video altrimenti sarebbero venuti tre video cortissimi. Iniziamo subito col primo, come fare un pin di caricamento spendendo praticamente 2,50€. Basta prendere uno di questi tubi da idraulica che ho già fatto vedere in altri miei video da 50 mm, io questo l'ho preso dalle Rumerland ma credo che si possa trovare in qualsiasi negozio del genere. Bisogna dividerlo in due, in realtà questo qua già ce l'avevo ed è il tubo che ha due giunzioni alla fine. C'è anche la versione che ha soltanto una giunzione, in quel caso non c'è neanche bisogno di tagliarlo. Comunque io l'ho tagliato molto facilmente con un coltello da pranzo, non è venuto molto preciso però vabbè con una carteggiata volendo si potrebbe aggiustare. Dopo averlo tagliato con un trapano ho fatto un buco qua e un buco qua quindi ci sono semplicemente passato attraverso. Quindi adesso facciamo la dimostrazione, anzi la facciamo con i nuovi pesi che sono appena arrivati. Uscirà un video, questo video uscirà prima della recensione, si uscirà un video in cui li recensisco, facciamo una preview. Quindi come si fa? Si mette il pin, come potete vedere la giunzione è perfetta perché blocca tranquillamente il peso. Io ci ho caricato 60 kg per fare la prova e li tiene tranquillamente quindi. E poi bisogna prendere un moschettone, un bullone e un dado. Molto semplicemente si mette il bullone facendo passare in mezzo il moschettone e poi si mette il dado giusto per non far passare. Volendo si può stringere ma non c'è veramente bisogno. Questo bullone è un po' troppo lungo, la lunghezza ideale in realtà sarebbe diciamo questa qua, ovvero quella che permette al dado di infilarsi dentro al bullone e che si stringe immediatamente. Questa è un po' più lunga quindi. Ed ecco qua, pin di caricamento fatto in maniera estremamente easy. Si può attaccare alla carrucola come questa, ci ho fatto il tutorial in uno scorso video, andatevelo a vedere, oppure un manico insomma qualsiasi cosa a cui serva un pin. Si può anche improvvisare una specie di kettlebell. Vabbè, senza divagare passiamo subito al secondo progetto fai da te. In realtà questo, più che un fai da te, è un fai dal fabbro, perché non si può... È cringe questa battuta? No. Un po'? No. Vabbè. Perché la maggior parte delle persone non lo potranno fare in casa ed è un J-Hook. Cosa ha di particolare questo tipo di J-Hook? Innanzitutto qualsiasi fabbro lo può fare in maniera molto semplice e vi dico subito che questo qua non l'ho fatto io. Io questo rack l'ho comprato usato e era già compreso, l'aveva fatto il proprietario precedente. E cosa ha di geniale questo J-Hook? Essendo questo rack, come vedete, un rack che ha dei buchi molto distanziati tra di loro, la scelta delle altezze per mettere il bilanciere è relativamente limitata. La soluzione potrebbe essere o fare altri buchi, però questo andrebbe a indebolire la struttura del rack, oppure avere questa idea geniale e fare un J-Hook che, a parità di buco a cui lo metti, è alto la metà. Quindi, come potete vedere, se questo J-Hook a questo buco arriva qua, questo J-Hook arriva 5-6 cm più sopra. Come potete vedere, per infilarlo basta fare in questa maniera e mettere questo perno di bloccaggio qui. So che può sembrare poco sicuro, però in realtà non lo è. Ci ho caricato sulla panca piana più di 110 kg e non ha dato il minimo segno di cedimento. In realtà a me piace di più utilizzare questo, perché essendo più stretto il bilanciere ha più spazio per, diciamo, essere appoggiato. Invece con questo solitamente va a sbattere sulla griglia, insomma. Quindi vi faccio vedere il design più da vicino. È semplicemente un pezzo di acciaio curvato, con un pezzo d'acciaio cilindrico, dello stesso diametro del buco del rack, e naturalmente il buco per infilare il perno. Come ho detto prima, so che quasi nessuno avrà gli attrezzi per farselo a casa, bisognerà rivolgersi a un fabbro, però sicuramente si risparmierà molto rispetto a comprare un J-Hook, diciamo, classico del genere. E anche se si dovesse andare a un fabbro e chiedere un J-Hook del genere, sicuramente si risparmierebbe con questo design. Ok, credo di aver detto tutto su questo J-Hook. Passiamo alla terza e ultima idea del fai-da-te, ovvero i microcarichi. Come probabilmente già sapete, già i pesi in generale costicchiano. Quando si parla di microcarichi invece, ovvero tutti quei dischi che vanno dai due chili in giù, come questi per esempio sono da 1,25, i prezzi triplicano. Si arriva addirittura a parlare di più di 10 euro al chilo. Questi mi sono arrivati oggi, come ho detto prima, e adesso ce li ho. Però, finora, cosa ho utilizzato come microcarichi? Ho delle cavigliere chiuse su loro stesse, in modo tale da poterle fare passare nel bilanciere, in questo modo, molto semplicemente. Il problema delle cavigliere è che costicchiano anche loro. Vabbè, queste sono dei cinesi, infatti fanno schifo. Però un paio di cavigliere da 1-2 chili buone costano parecchio. Però le puoi usare anche per altre cose. Sì, è vero, si possono usare per altre cose, però se non si è femmine non servono a niente. No, sto scherzando. Quindi diciamo, se si devono spendere soldi, tanto vale spenderli per i microcarichi veri e propri. Quindi la cosa più cheap in assoluto è questa qua, ovvero una calza vecchia che si annoda in questa maniera intorno al bilanciere. Cosa c'è dentro questa calza? Un pezzo di ferro arrugginito qualsiasi che ho trovato in campagna. Non so neanche cos'è in realtà. Vabbè, un pesetto. Questo pesa 750 grammi. Ne ho anche altri in cui ci ho messo viti, bulloni, insomma. In questo modo facevo i miei microcarichi. Non è sicuramente comodo e carino come un dischetto del genere, però sinceramente non mi ci sono mai lamentato. Ci sono altre tre o quattro idee molto veloci che potrei raggruppare in un altro video. Se vi piace questo format o preferite invece che a ogni idea dedichi un video, fatemelo sapere. Niente. Se invece avete domande su un qualsiasi argomento lasciate qua sotto un commento iniziando con Peppe risponde e risponderò alla domanda in un prossimo Q&A. Niente, spero di aver detto tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!